Ciao ragazzi e ragazzi, amici, il serale. La finalissima. Ecco pronta la classifica dei quattro finalisti. Vediamo Gaia al primo posto, Javier al secondo posto, Giulia al terzo posto e Nicolai al quarto posto. Quindi è Nicolai a dover abbandonare la finale. Il suo sogno finisce qui. Nicolai ringrazia tutti, ringrazia la giuria, i ballerini professionisti e in particolare Maria che ha creato un impero. Tutta la giuria si alza in piedi applaudendo Nicolai che va via e Maria sottolinea che si sono alzati proprio tutti tranne la Celentano. Maria le dice che trova questo comportamento sbagliato di fronte al ragazzo che ringrazia tutti. La Celentano non approva, non è alzandosi che si dimostra dispiacere e Maria sbotta. Voi che vi siete alzati siete tutti cretini, lo trovo poco educato. La Celentano afferma che non si è mai alzata per nessuno e visto che non vuole capire quello che intende la presentatrice, Maria conclude il discorso dicendole che è la finale e non vuole litigare. Alzarsi in piedi è una forma di rispetto e di educazione, tutto qui. Brava a Maria, anche in finale la Celentano è riuscita a distinguersi e a dare il peggio di se stessa, ovviamente. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!